Ciao astronomers! Quando abbiamo introduito l'esatto 2", LP Low Profile Focuser, anche se è possibile usarlo con molti telescopi, lo disegniamo con l'Edge HD 80 Inches Telescope in mente, perché questo è un ottimo, compagno e affidabile, anche per l'astrofotografia. E il vostro feedback è stato fantastico, quindi abbiamo deciso di fare un passaggio in avanti, questa volta per lasciarvi usare l'Edge HD 80 Inches Telescope con il suo scelto alluminio, il nostro generatore di giotto flatfield generatore e il motore del telescope alto. Questa è la nuova polta delftail Losmandy Style 645 mm che, ovviamente, puoi usare per collegare un telescopio lungo e installe una monta delftail che fa dato con la delftail di Losmandy. Aspetto alla nostra barra di doftail, la polta è preparata con macchine CNC high precisione è specialmente designato per aiutare di installare altri elementi di plus meccanico, come soppart rings, guiderings o clampi di doptail. Ma lo designiamo anche per una tasca specifica. Se avete l'HHD 8-inches Telescope con il suo alluminum di shield e installate il 645 mm plus doptail bar in parallel, puoi collegare l'alto2 motor usando la clampi di doptail e poi il generatore Giotto 255. con il generatore flat-fuel. In questo modo avverete il tuo telescopio un ottimo sistema per ricordare fles e per aprire il telescopio con controllo completo. Per altri contenuti che ti aiutano a esplorare l'Universo come un pro, abbiatevi al nostro canale e... CLEAR SKIES! ... ... ... ... ... ... ... ...